Ciao, oggi voglio parlarvi di un video tag ossia io e il X89, Ilaria, abbiamo deciso di realizzare un video a cui potete partecipare tutte con questo video tag vi chiederemo di fare determinate cose e ne abbiamo pensate tre, in modo da poter soddisfare tutte e far partecipare veramente tutte le tre opzioni poi ve le metterò nel box qui a fianco, adesso non mi ricordo mai quale è il lato e sono tre quindi, la prima opzione potete fare una nail art di vostra fantasia quindi una decorazione che create voi, che inventate voi seconda opzione potete invece fare una decorazione ispirandovi ad una mia decorazione o a una di quelle che ha fatto il X89 terza opzione invece potete semplicemente elencarci i vostri colori preferiti di smalto quelli che usate di più o quelli che comunque vi piacciono di più questa terza opzione è stata pensata da noi due, soprattutto per le guru del make up quindi speriamo che partecipino anche Clio, Kiankiri e tutte le ragazze che fanno tutorial sul trucco e quindi abbiamo pensato questa terza opzione e niente, a questo video tag partecipiamo anche noi due e io farò tra le tre opzioni scelgo la seconda ossia una decorazione ispirata nel mio caso al X89 e ho fatto questa che lei fece tempo fa e mi è piaciuta molto e quindi io farò questa ovviamente voi per quanto riguarda la seconda opzione quindi quella di ispirazione potete cambiare i colori potete fare quello che volete o riproporla identica io ovviamente ho lasciato gli stessi colori perché comunque per forza questi bisognava fare e niente spero partecipiate davvero in tante quindi ci fate vedere il procedimento come avete fatto la decorazione e niente, adesso vi faccio vedere come ho fatto io questa e speriamo davvero che partecipiate però un'altra cosa il video che farete lo metterete ovviamente come video di risposta a questo mio video o a quello che farà Ilaria e niente, partecipate ciao allora innanzitutto metto il rosso su tutta l'unghia ok e poi aspettiamo che si asciughi ok una volta asciugato prendiamo il verde col verde tracciamo coloriamo la parte bassa insomma dell'unghia facendo una diagonale così ok 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 Ok, e poi il bianco, con il bianco facciamo lo stesso. Così. E niente, ringrazio ilix89 per questa decorazione, perché mi è piaciuta molto. E niente, alla prossima, ciao!